Ciao Luca, ho un po' di nozioni di chitarra blues, purtroppo non ho più l'età per apprendere veloce e imparare bene uno strumento come la chitarra e noi in caso voglio provare. Quando impariamo a suonare uno strumento, noi lo stiamo facendo per due ragioni. La prima è quella di nutrire il nostro ego, quindi noi vogliamo probabilmente dimostrare a noi stessi che possiamo ancora farlo, accontentare il desiderio che magari abbiamo da anni e che abbiamo sempre represso di imparare a suonare uno strumento come ad esempio la chitarra. Quindi questa è la fase egocentrica che bisogna accogliere. L'età in realtà non c'entra, noi siamo sempre giovani per poter nutrire la nostra anima se vogliamo parlare in termini spirituali. Quindi cerchiamo di bilanciare i due concetti, quello di egocentrico che ci spinge a voler dimostrare a noi stessi e agli altri che balliamo e questo a livello animico.